la mia vita 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 ok ora oggi si vuole lavorare con le relazioni pensate a qualcosa qualcosa che vuoi vuoi, vuoi, vuoi qualcosa che vuoi hai notato che si va avanti ok, qui era molto pensate a qualcuno che non vuoi qualcosa che vuoi, ok quindi vedete questa reazione prima, fai con l'occhio seconda, ancora, a qualcosa che vuoi qualcosa che vuoi ok pensate a qualcuno o qualcosa che non vuoi ok non 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 Sì, respira, respira. Quindi facciamo il lavoro che abbiamo fatto prima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.